Siamo all'interno dell'emeroteca, uno dei servizi più conosciuti della città che come vedete offre la possibilità di consultare circa 700 riviste che sono messe a disposizione sia gli ultimi fascicoli sia i numeri precedenti che trovate all'interno dell'oculo. Queste riviste possono essere anche prese in prestito. Oltre alle riviste ci sono 32 quotidiani. Questo è un servizio che molti di voi già conoscono che è stato alcuni anni fa ampliato con un servizio digitale. Quindi le riviste sono consultabili anche direttamente da casa vostra utilizzando qualsiasi dispositivo. Bisogna iscriversi a una piattaforma che si chiama Mlol. Per chi è iscritto alla biblioteca basta richiedere anche con una posta elettronica l'iscrizione a questo servizio oppure se non si è ancora iscritti si può fare anche direttamente l'iscrizione online andando sul sito BiblioEst che è il portale delle biblioteche cittadine. Una volta registrati si ottiene lo username per accedere alle biblioteche. con questo username si fa la richiesta con la posta elettronica a emeroteca chiocciolina comune.trieste.it Partendo da Esplora Catalogo c'è un menu cliccando tipologie avremo audiolibri, ebook e l'edicola. Qui troviamo ben 7.000 periodici tra quotidiani e riviste suddivise in 40 lingue. Selezionando ad esempio un quotidiano possiamo sfogliarlo. La piattaforma fornisce anche dei servizi molto utili come ad esempio la traduzione. Semplicemente cliccando su un'icona il sistema mi traduce l'articolo da me selezionato. Un'altra funzione è quella della lettura ad alta voce, quindi posso sempre selezionare l'articolo e chiedere al sistema che mi lega l'articolo. Anche quando siete fuori a casa vostra oppure in un giardino come questo potete accedere a questo servizio non solo per leggere i giornali ma ad esempio per scaricarsi un ebook o ascoltare musica. Abbiamo la possibilità di ascoltare ben 120.000 cd di musica, soprattutto musica classica ma anche jazz e musica d'ambiente, insomma ci sono diverse tipologie. Tutte queste informazioni e maggiori dettagli li potete trovare nella pagina della biblioteca Ortis ai servizi prestito digitale.